Organizzato dalla consulta delle elette, si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Il dolore ha bisogno di cultura, Piemonte, Italia, il dolore delle donne. È un fenomeno che coinvolge corpo, mente e relazioni, inducendo un peggioramento di vita per chi ne soffre, oltre a un notevole impatto sociale ed economico. Non basta una legge per alleviare il dolore, ma è necessario un cambiamento culturale, non essendo esclusivamente un semplice fenomeno biologico, ma un vero problema esistenziale.